Questa vicenda ha avuto una vasta eco anche sui social, confermi questo? Sì Paolo, è una vicenda che ha colpito particolarmente la nostra community, sia su Facebook che su Instagram. Già nei giorni scorsi numerosi i commenti su questa vicenda. Vi faccio vedere subito la card che abbiamo pubblicato questa mattina rispetto alle annotazioni fatte dall'Osservatorio di Salute Mentale. È un aspetto, un argomento che ha colpito particolarmente per l'Osservatorio di Salute Mentale e Assistenza Territoriale inadeguata in Abruzzo. Perché molti sottolineano, evidentemente sono persone che hanno anche dei problemi in famiglia, che nei giorni festivi questa assistenza non c'è. Intanto fa acqua la questione dell'assistenza H24, ma il problema pare sia abbastanza evidente, più evidente nei giorni festivi. Non a caso il povero Di Gregorio ha avuto questa crisi proprio in un giorno festivo. Per cui spesso i parenti, i genitori o i familiari si ritrovano a dover affrontare da soli questa problematica, senza avere un'assistenza adeguata dalle strutture che si dovrebbero occupare di queste persone. La crisi che ha avuto Simone Di Gregorio è stata una terribile crisi che lo ha portato in qualche modo purtroppo alla morte, ma evidenzia una problematica che tra poco ci spiegherà meglio la collega Anna Di Giorgio, una problematica che i nostri amici di Facebook e di Instagram purtroppo conoscono molto bene e lanciano in qualche modo un appello anche alle istituzioni, in particolare all'assessorato regionale alla sanità, affinché si intervenga in maniera più efficace su questa problematica, soprattutto in un periodo come quello dell'estate, dove le persone fragili come Simone soffrono in maniera ancora più particolare. A te Paolo. Ecco Luca, volevo chiederti un'ultima cosa prima di chiudere il collegamento. È stata aperta naturalmente un'indagine, che cosa si sa su questo fronte? Allora sì, stiamo aspettando notizie per quanto riguarda l'autopsia che c'è stato il giorno di faragosto per cui dovrebbe essere eseguita oggi all'ospedale di Chieti. Ecco, sul fronte delle indagini Paolo bisogna chiarire un aspetto. Cosa ha causato la morte di Simone Di Gregorio? Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il taser non ha avuto efficacia sull'uomo, che è riuscito comunque a scappare e si è accasciato al suolo solo dopo diversi metri sui binari della ferrovia. Da capire se la morte sia avvenuta a causa delle numerose testate che l'uomo ha dato alla sua automobile, che quindi ha provocato in qualche modo una commozione cerebrale che ha avuto i suoi effetti devastanti soltanto qualche minuto dopo, o se questa morte sia stata causata dalla scarica elettrica del taser. In quest'ultimo caso ovviamente scatterebbe l'ipotesi di reato dell'omicidio colposo, anche se comunque a carico di ignoti. Comunque la procura di Chieti giustamente vuole capire fino in fondo come sono andate le cose da questo punto di vista e tutto ovviamente è legato all'esito dell'autopsia che dovrebbe essere seguita in giornata. Te Paolo.